La presentazione del 14esimo libro bianco sulle droghe, io ho il piacere e l'onore anche quest'anno di avere contribuito a fare in modo che questa presentazione avvenga all'interno della Camera dei Deputati e questo ha un significato importante, un significato istituzionale e politico perché questo documento dovrebbe parlare prima di tutto ai decisori politici, al Parlamento e ovviamente al Governo. Dico subito, prima di passare la parola agli altri relatori che entreranno nel dettaglio dei contenuti del 14esimo libro bianco, che la situazione che abbiamo di fronte per quanto riguarda l'impatto delle politiche sulla droga in termini sociali, penali, in termini di impatto sull'umanità e sui cittadini di questo Paese è letteralmente terribile. Nel senso che si continua ad osservare anche per quanto riguarda il 2022, si continuano ad osservare gli effetti di politiche estremamente repressive basate tutte quante sul codice penale e sulla repressione che sono le politiche e le normative del nostro Paese. Dico anche che questo è un documento che andrebbe letto congiuntamente a un altro documento che pochi giorni fa è stato depositato qui alla Camera dei Deputati, che è la relazione del garante per le persone private della libertà. Perché? Perché a dirlo sono direttamente i numeri, io ne cito pochissimi prima di passare la parola, il 34% dei detenuti è in carcere per violazioni del testo unico sugli stupefacenti. Questo dato, il libro bianco ci dice, è quasi il doppio della media europea che è sul 18%. E quindi sostanzialmente si può dire che se vi fosse un altro approccio al fenomeno sociale del consumo di sostanze stupefacenti da parte del nostro Stato non ci sarebbe il sovraffollamento penitenziario, il sovraffollamento carcerario. Questo è un primo elemento che congiunge le due relazioni, il libro bianco sulle droghe e la relazione del garante perché da quella relazione del garante sono arrivate delle indicazioni molto chiare e purtroppo mi pare di capire inascoltate, non fosse altro già dal fatto che praticamente non vi erano rappresentanti della maggioranza di centrodestra a quella relazione del garante Palma, però arrivavano delle indicazioni chiare in termini di depenalizzazione, necessità di depenalizzazione, di ricorso alle misure alternative. Il libro poi, e lo ascolterete, attraversa il libro bianco anche altre questioni che sono molto importanti e sono molto afflittive. Una di queste è il continuo ricorso alle sanzioni amministrative in base all'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti. Sanzioni amministrative che sono molto afflittive perché hanno un impatto devastante spesso sulla vita delle persone, la vita lavorativa, la vita di relazione, sono molto afflittive e sono combinate nei confronti di chi in realtà non ha commesso reati, ma semplicemente detiene per uso personale. Questo è un altro abominio al nostro avviso da un punto di vista proprio del diritto e dello stigma e di come lo Stato intende punire semplicemente degli stili di vita, delle scelte, delle facoltà che non danneggiano minimamente terzi. Concludo prima di passare la parola però a Franco Corleone della Società della Ragione ricordando che oggi pomeriggio, sempre in questo palazzo, all'aula dei gruppi, il governo italiano ha deciso di convocare la giornata mondiale contro le droghe e già in questo c'è una mistificazione perché il governo italiano definisce il 26 giugno la giornata mondiale contro le droghe quando tutti sappiamo che in realtà è la giornata contro il traffico illecito e contro l'abuso e quindi già c'è un approccio che è letteralmente sbagliato, errato in quello che fa il governo italiano e quella che probabilmente andrà in scena in questo palazzo con il massimo di visibilità mediatica e di trombe e di tromboni sarà una kermesse con un approccio che è l'opposto rispetto a quello che le associazioni che curano ogni anno il libro bianco intendono offrire all'opinione pubblica italiana e alle istituzioni italiane, cioè un approccio basato quello dell'appuntamento governativo sul pregiudizio, sulla mistificazione, sulla mancanza dell'analisi e della come dire attinenza ai dati scientifici che è quello da cui bisognerebbe partire quando si affronta un fenomeno sociale così complesso. Saranno ospiti di questa kermesse governativa due tra i campioni o campioncini del proibizionismo americano che produrranno probabilmente con grande enfasi e attenzione mediatica, si produrranno nelle falsificazioni e nelle fake news solide e più ricorrenti, in particolare contro la legalizzazione della cannabis e quindi noi siamo qui anche pronti oggi per farlo oggi in questa occasione e per farlo poi nella giornata di oggi per smentire tutte le fake news che verranno prodotte oggi dal governo italiano. Probabilmente questa sera i cittadini italiani sul Tg1 vedranno molto a lungo e conosceranno quelle fake news. Noi avremo molta più difficoltà a far conoscere un lavoro scientifico e documentato come il quattordicesimo libro bianco ma non per questo ci arrenderemo. Franco Corleone. Grazie a Riccardo Maggi che in Parlamento sostiene, promuove, presenta proposte di legge per una diversa politica. Questo è il quattordicesimo libro bianco che noi presentiamo sempre compiendo un miracolo il 26 giugno rispettando la data che quasi mai il Dipartimento delle Politiche Antidroghe rispetta presentando al Parlamento la relazione annuale. Mi pare che anche quest'anno non l'ha ancora presentata e c'è una ragione perché siccome i dati non si possono falsificare ufficialmente il governo dovrebbe dichiarare gli stessi nostri dati. E però questo mal si concilia con una giornata di retorica, demagogia, falsità, propaganda e quindi aspetteremo. Dopodiché quella relazione sarà messa da parte perché in realtà quello che il governo ha annunciato attraverso suoi esponenti è una politica di restrizione e di volontà di affrontare i problemi delle contraddizioni della legge sulla giustizia e sul carcere in un modo per da una parte trovare delle finte soluzioni paternaliste e autoritarie e dall'altra aggravare le pene. L'esempio è dato dal sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove che ha lanciato recentemente, qualche mese fa la proposta di togliere dal carcere non si sa se con un provvedimento forzato i cosiddetti tossicodipendenti e trasferirli in comunità chiuse questo nella dichiarazione è stata usata questa formula a dir la verità questo pronunciamento non è seguito nessun atto prima di tutto perché dal punto di vista normativo ci sono già le soluzioni possibili anche se noi con Alessandro Margara le contestammo e presentammo altre proposte diverse ma nella logica del governo le proposte per identificare percorsi comunitari già esistono addirittura con la possibilità di anche per le persone con una pena fino a sei anni quindi rispetto all'affidamento ordinario che è fino a quattro anni e quindi dall'altra ci quindi non è seguito a quel pronunciamento una proposta normativa può essere quale altra soluzione si possono inventare quella della corruzione cioè di dire alle comunità terapeutiche che riceveranno molti soldi e quindi di attrezzarsi per questa operazione di demagogia diciamo sovraffolli le presenze di persone qualificate dalla burocrazia come tossicodipendenti sono un numero rilevantissimo in carcere quindi l'idea di agire per ridurre il sovraffollamento in questo in questo modo ovviamente rimangono in carcere con una percentuale molto molto alta le persone per violazione dell'articolo 73 del DPR 309-90 ovviamente quelle secondo del mastro delle vedove e altra compagnia di giro quelli devono rimanere in carcere e possibilmente avere delle pene aggravate tant'è che un'altra esponente di Fratelli d'Italia l'onorevole Montaruli ha presentato una proposta di legge per aggravare le pene per i fatti di lieventità il comma 5 dell'articolo 73 che è reato autonomo e non più un attenuante dal 2013 mi pare ora il testo non è ancora disponibile noi siamo curiosi di vederlo perché non vorremmo che in questa foga repressiva avessero anche trovato come soluzione quello di mettere per i fatti di lieventità una per quanto riguarda i cannabinoidi una pena superiore a quella del reato base quindi sarebbe stravagante assai ma siccome la lieventità ha una previsione che è uguale per tutte le droghe sia tabella 1 e 4 è possibile che in questa idea facciano aggravino le pene in modo che per le cosiddette droghe pesanti sia comunque più bassa della pena base che è da 6 a 20 anni ma per il comma 4 che riguarda invece la canapa facciano una pena più alta di quella base sarebbe una cosa di stravaganza assoluta giuridica e quindi il quadro che abbiamo davanti è molto preoccupante pensando che la responsabilità politica delle droghe è ad Alfredo Mantovano che è stato l'ispiratore l'autore della legge Fini Giovanardi io ricordo anche una polemica fra Paolo Mieli e Alfredo Mantovano in cui Mieli ridicolizzava le posizioni di Mantovano un po' di molti anni fa quindi la responsabilità a lui è molto pesante perché per la destra identitaria clericale il problema del salvare le anime è il centro non importa se poi questo significa mettere a rogo uccidere no lo dico non a caso uccidere perché noi abbiamo avuto tanti morti colpevoli solo di essere consumatori o ospiti a San Patrignano come Maranzano quindi per loro è un fatto fondamentale quello che bisogna lottare per salvare le anime a dispetto di tutto utilizzando utilizzando il codice penale come una clava ormai non possiamo più dire ma noi ci aspettiamo che il ministro Nordio che si proclama si proclamava liberale garantista intervenga in realtà come ha accettato la modifica l'inserimento al codice penale delle norme sui reib e molte altre probabilmente accetterà anche queste nuove soluzioni quindi noi ci prepariamo l'abbiamo scritto Stefano Anastasia e io nella introduzione che ogni anno facciamo che ci prepariamo a una traversata nel deserto molto pesante molto dura però abbiamo dalla nostra quello che nel mondo si si sviluppa cioè una critica alla war on drugs e il cambiamento a partire dagli Stati Uniti adesso noi non abbiamo fatto in tempo ma avremmo dovuto invitare a quell'incontro di oggi un rappresentante dell'ambasciata degli Stati Uniti che facesse da contrappeso a questi due trampiani assoldati per spacciare ecco sì spacciare menzogne quindi noi abbiamo dalla nostra non solo i dati molto che indicano una persecuzione verso i giovani è stato ricordato per il semplice consumo dal 1990 oggi siamo a un milione e quattrocentomila segnalazioni ai prefetti e di cui un milione per uno spinello quindi una persecuzione di massa ma anche abbiamo dalla nostra il fatto che comunque nel mondo dall'Uruguay al Canada a molti altri paesi le cose cominciano a cambiare quindi l'Italia sarà il fanalino di coda per tenere la la repressione al centro mi limito a dire che nel libro poi Leonardo Fiorentini esporrà i dati che sostanzialmente ripetono quelli degli anni scorsi se non il fatto che viene confermato che le misure alternative ormai stabiliscono una differenza di classe chi ha un avvocato una famiglia eccetera può anche non avere il processo e avere la messa alla prova chi per gli stessi reati invece è solo entra in carcere sconta fino all'ultimo giorno questo è un peso sempre sempre più forte però mi limito al fatto che abbiamo pubblicato il documento della corte di cassazione sui fatti di lieve entità è uno studio fatto su 400 sentenze della cassazione sulla lieve entità nello studio Arianna Lancia e Flavia Pacella dicono che non c'è reato che abbia un numero di pronunce così alto della cassazione delle sezioni unite questo per dimostrare come in Italia è avvenuto proprio una stortura per cui la droga al singolare eccetera è il centro dell'attività giudiziaria penale carceraria e nella e questi nello studio della cassazione ufficialmente si dice confermano che in Italia un terzo della popolazione detenuta si trova in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti e un quarto dei detenuti sono tossicodipendenti e questo studio parla della politica proibizionista quindi un documento l'abbiamo integralmente riprodotto perché conferma che abbiamo ragione a dire che la lieventità deve diventare non solo fattispecie autonoma ma anche un articolo autonomo per evitare che si venga arrestati genericamente per il 73 e la lieventità emerga all'esito del processo con una precedente inutile carcerazione questo è il quindi è importante questo libro bianco anche per questo studio che ci conforta a dire che occorre insistere per quella scelta di riforma che non è la riforma della complessiva della politica delle droghe ma di un punto delicato e importante quest'anno manca nel libro bianco il contributo di Assan Bassi sul riferimento del peso dell'uso di sostanze alla guida credo che sarà fornito questo studio nei prossimi giorni e quindi sarà allegato nell'edizione successiva a oggi perché in relazione a un caso di cronaca terribile dovuto alla cretineria delle persone non all'uso di canapa ma alla una fattispecie precisa l'essere cretini e invece non c'entra nulla il consumo di canapa ebbene a Assan Bassi negli anni scorsi ce l'ha dimostrato con i numeri che chi causa incidenti sotto consumo di sostanze stupefacenti è una percentuale risibile cioè che chi provoca incidenti sono gli astemi o o quantomeno sono persone che non hanno questo uso oppure in percentuale più alta ma non altissima l'uso di alcol in realtà l'uso più forte è quello del telefonino che provoca gli incidenti però nella demagogia e nella vulgata questo non si può dire e quindi continuano a dire che dovranno fare produrre l'ergastolo della patente voi pensate l'ergastolo usare la categoria dell'ergastolo per la patente per chi guida sotto anzi neppure sotto l'influenza risultando un consumo precedente che può non essere neppure determinante quindi questo è per indicare un altro fronte di demagogia forte che è quello del consumo di sostanze alla guida che non è confermato dai dati ma non dai dati di assambassi da quelli della polizia dei carabinieri che fanno eccetera quindi questo è anche un fronte che non ci mette in difficoltà ma il problema è che dovremmo non so fare un corso di formazione per i giornalisti o chiedere una trasmissione in televisione commettendo i dati ufficiali su quale relazione c'è fra i consumi e gli incidenti stradali bene l'ho fatta lunga io mi fermo qua mi pare però che abbiamo elementi e forza per non arrenderci Leonardo Fiorentini segretario di forum droghe grazie a me tocca il compito più noioso ovvero dare i dati la cosa che volevo ricordare che il libro bianco è promosso dalla società civile che è impegnata nella riforma delle politiche sulle droghe promuovono il libro bianco società della ragione forum droghe antigone cgl cnca associazione luca coscioni arci lila e lega cop sociali con l'adesione di a buon diritto comunità di san benedetto al porto funzione pubblica cgl gruppo abele itard e itampud lo presentiamo ogni anno il 26 giugno perché non solo come ricordato prima è la giornata mondiale contro l'abuso di droghe e contro il narcotraffico ma perché proprio in questa giornata da ormai molti anni la società civile internazionale ha lanciato una campagna che si chiama support don't punish che vuole appunto chiedere politiche sulle droghe che siano rispettose dei diritti umani e delle evidenze scientifiche questa campagna ha tanto fatto precia anche alle nazioni unite ma evidentemente non nel governo italiano che quest'anno questa giornata che il nostro governo chiama giornata mondiale contro le droghe ha un claim che è molto chiaro che è people first per la prima volta non solo mancano perché mancano i dati aggiornati rispetto agli incidenti stradali e collegati eventualmente all'uso di sostanze ma mancano per la prima volta alcuni dati nel libro bianco perché per la prima volta il dipartimento politica antidroga non ci ha concesso alcuni dati in particolare quelli riferiti ai processi per droghe che sono in corso per cui su quelli quello che vi darò è il dato relativo al 2021 e non al 2022 i dati come veniva detto prima sostanzialmente confermano i trend che ormai purtroppo da troppi anni fanno delle politiche sulle droghe il volano delle politiche repressive in Italia tant'è che ad esempio dal punto di vista numerico noi ci ritroviamo che a fronte di un calo delle azioni delle forze dell'ordine rispetto alla repressione delle droghe certificato pochi giorni fa dalla direzione centrale per i servizi antidroga segue anche un calo in termini assoluti delle presenze per droghe che però in termini percentuali si mantengono a livelli altissime per intenderci per quanto riguarda gli ingressi in carcere entrano in carcere per il solo articolo 73 per cui spaccio sostanzialmente piccolo spaccio perché poi molti di questi la maggior parte 7 su 10 se ricordo bene dalle stime del direzione centrale del servizio antidroga sono per fatti di lieve entità entrano in carcere il 26,1% dei detenuti per l'articolo 73 per cui un quarto dei detenuti entra in carcere per un articolo di legge del nostro sistema penale il dato però davvero allarmante e ormai drammatico è quello degli ingressi di persone che usano sostanze definite tossicodipendenti dalla burocrazia del dipartimento delle politiche penitenziarie che hanno raggiunto quest'anno un record sono il 40% degli ingressi perché quasi la metà di chi entra in carcere ha un un uso di sostanze problematiche o meno poi è da verificare il problema che anche nel dato al 31-12 per quelle persone che poi rimangono effettivamente in carcere abbiamo il record di presenze di detenuti cosiddetti tossicodipendenti che raggiunge il 30% è il dato maggiore dal 2006 ad oggi i detenuti invece in carcere per droghe rimangono più o meno costanti siamo circa il 34% del totale ovviamente sono in parte sovrapponibili rispetto ai detenuti che usano sostanze perché molti di questi entrano per la legge sulle droghe altri entrano in carcere invece per delitti legati al loro magari uso problematico delle stesse e possiamo sostanzialmente dire come già anticipato che se non ci fossero se non ci fosse l'articolo 73 o non ci fossero detenuti che usano sostanze in carcere non avremmo avuto mai da dieci anni a questa parte alcun problema problema di sovraffollamento carcerario rispetto all'impatto sulla giustizia come dicevo noi abbiamo solidati del 2021 che però parlano di circa 186 mila processi per articolo 73 mentre per articolo 74 ovvero l'associazione per narcotraffico per cui diciamo il reato associativo più grave sono 45 mila che fanno un totale di oltre 130 mila tenete conto che questi sono i dati della relazione annuale del governo che appunto stiamo ancora aspettando 7 procedimenti su 10 per droghe finiscono con un condannato per cui diciamo un sistema repressivo con una letale efficacia dal punto di vista dei numeri pensate che reati contro la persona contro le cose hanno un rapporto di condannati per ogni processo che balla fra 1 e 2 su 10 come si diceva prima le misure alternative continuano a crescere poi con l'introduzione della map ancora di più tanto che ormai l'area del controllo penale in Italia è solo in parte rappresentata dai detenuti in carcere ma almeno tanti quanti i detenuti in carcere sono le persone anzi di più sono le persone che in qualche modo sono sottoposte a misure alternative che possono essere la detenzione domiciliare la messa alla prova e altre e altre cose un altro dato che noi rileviamo e che continua a essere preoccupante rispetto alle politiche italiane sulle droghe è la repressione del mero consumo che dal 93 dal referendum del 93 che ha tolto il carcere per il solo consumo di sostanze resta punito con sanzioni amministrative come veniva detto prima molto afflittive che sono il ritiro della patente il ritiro del passaporto il ritiro del porto d'armi e il ritiro dell'eventuale permesso di soggiorno per scopi turistici non abbiamo dei dati non possiamo dare dati certi rispetto alle sanzioni amministrative perché abbiamo notato soprattutto nell'ultimo aggiornamento che il consolidamento dei dati è molto molto rilevante per cui quelli che l'anno scorso non abbiamo dato come circa 32.000 segnalazioni per droghe quest'anno sono diventate oltre 36.000 questo ovviamente rispetto ai trend anno su anno crea qualche problema possiamo però dire che negli ultimi anni almeno da tre anni quindi diciamo post-covid le segnalazioni sono sopra le 30.000 l'anno che il 38% di queste per cui quasi il 40% finisce con una sanzione amministrativa che la repressione continua ad aumentare per quel che riguarda i minori è un dato del più 33% disclaimer non stiamo parlando di aumento di consumo di droghe nei minori stiamo parlando di aumento della repressione del consumo di sostanze tra i minori siccome gli anni scorsi avevano dato questo dato e qualcuno l'aveva malinterpretato è le forze di polizia che quest'anno hanno colpito più duramente del 33% l'aumento i minori che usano sostanze la stragrande maggioranza quasi la totalità parliamo del 97,4% dei minori è stato segnalato per cannabis che rimane la sostanza al centro della repressione il 75% delle segnalazioni totali è per cannabis seguono a distanza la cocaina 18% e l'eroina 4,2% e possiamo dire che sono oltre 1.400.000 le persone segnalate per droghe dal 90 ad oggi di queste oltre un milione lo sono stati solo per cannabis nel libro bianco trovate anche altre riflessioni sia rispetto all'alimentità che rispetto alle misure alternative per le persone che usano droghe in carcere ma anche un approfondimento rispetto alle politiche delle Nazioni Unite che come vi dicevo stanno andando e virando verso un'attenzione particolare al rispetto dei diritti umani in nostro paese a Ottobrescoso è stato richiamato dal Comitato per i diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite per quel che riguarda l'eccessiva criminalizzazione delle politiche sulle droghe e per la mancanza di disponibilità di politiche di servizi di riduzione del danno su tutto il territorio nazionale in quella sezione facciamo il punto su questo e facciamo anche il punto sull'ultimo rapporto dell'INCB che ha preso diciamo di petto la questione di legalizzazione facendo un capitolo ad essere dedicata e sostanzialmente politicamente guidato contro la regolamentazione legale della cannabis fra l'altro in tutto questo è davvero curioso che al posto che chiamare un rappresentante dell'INCB o del NAIDA americano si sia chiamato due rappresentanti di associazioni americane un po' come se il governo americano chiamasse me Corleone a parlare della situazione italiana negli Stati Uniti appunto nel libro bianco trovate anche un'analisi di quel rapporto e di in qualche modo debanking delle considerazioni fatte dall'INCB in sala e online trovate anche delle fac rispetto alle fake news che probabilmente oggi pomeriggio verranno diffuse a reti unificate che possono essere utili in questa difficile giornata io mi fermo qui passerei la parola a Denisa Merini della CGL grazie io vi prenderò pochissimo tempo volevo partire solo da una riflessione che mi sembra emerga chiaramente da quello che sia Franco Corleone che Leo Fiorentini hanno detto ma anche e soprattutto da quello che sta avvenendo nel nostro paese in questi ultimi mesi e mi pare di poterlo come dire definire in questo modo si pensa di dare risposta ai problemi delle persone si dare si pensa di dare risposta ai bisogni dei cittadini esclusivamente con il codice penale aumentando le fattispecie di reato e aumentando le pene già previste per i reati già previsti dal codice penale inserendone addirittura di nuovi con una fantasia che veramente è al di là dell'immaginabile penso per esempio a quello che sta succedendo in questi ultimi giorni riguardo il reato universale legato alla gestazione per altri che è veramente una cosa che ci dovrebbe far riflettere su come si intende appunto ragionare le politiche nel nostro paese le politiche penali ma non solo quelle che riguardano tutto quello che ha a che fare con i diritti individuali delle persone e con il diritto delle persone ad autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita ecco io partendo da questo vorrei dire solo due cose riallacciandomi appunto a quello che diceva Franco nel suo intervento nella sua relazione non si può pensare di rispondere da una parte ai problemi del sovraffollamento carcerario e dall'altro delle persone che usano sostanze con l'idea assolutamente strumentale come ha ben detto Franco di trasferire le persone che usano sostanze dal carcere alle comunità riproponendo di fatto però un modello che è repressivo che è custodiale che è di istituzione totale senza pensare invece a quello che le evidenze di tutti gli ultimi anni ci mettono di fronte che le sostanze le droghe non sono tutte uguali e non è un caso invece che si sia prepotentemente tornati a parlare di droga al singolare che non è un caso che alcuni giorni fa ho letto un articolo su una testata nazionale importante che mi ha lasciato veramente esterrefatta oltre che arrabbiata di un bambino morto per overdose di cannabis c'era scritto nel titolo poi si va a leggere l'articolo e si scopre che dai reperti dall'analisi fatte su questo bambino le sostanze rinvenute erano eroina e cocaina ma il titolo cubitale era overdose di cannabis così come l'ha accennato anche questo Franco nella sua introduzione non ci torno sopra il rilievo che si sta dando a un fatto veramente drammatico successo pochi giorni fa di un incidente stradale drammatico dove ha perso la vita un bambino dove si sottolinea comunque solo e soltanto se non in maniera assolutamente prepotente l'utilizzo di sostanze da parte di quelle persone e si tralascia invece di fare un ragionamento che sarebbe molto più opportuno su ben altro penso per esempio all'uso dei social a certe dinamiche che oggi fanno parte prepotentemente della nostra società e delle relazioni spaventa la visione etica moralistica che c'è dietro tutti questi ragionamenti ma vorrei sottolineare un punto di vista particolare facendo parte di un'organizzazione sindacale confederale che quindi ha come dire al centro del proprio intervento e delle proprie attenzioni i diritti individuali e i diritti collettivi il diritto alla salute e il diritto dei lavoratori che garantiscono certi servizi ecco dicendo che le persone che fanno uso di sostanze attualmente in carcere vengono trasferite automaticamente in comunità si dimostra anche di non sapere come funziona il sistema dei servizi perché esistono norme ben precise a partire dalla legge 300U 81 del 91 che ha istituito le cooperative sociali fino alla recente riforma del terzo settore che ci dicono quali sono i rapporti tra il servizio pubblico il privato sociale che ci parlano di coprogettazione coprogrammazione degli interventi dando un ruolo attivo a tutte quelle istituzioni quelle strutture quegli operatori che in tutti questi anni hanno lavorato seriamente sul tema delle dipendenze hanno sviluppato servizi importanti di riduzione del danno interventi di prossimità e che sono assolutamente in grado di dirci che non è con l'allontanamento e la reclusione in istituzioni in luoghi chiusi che si possono affrontare e risolvere i problemi vorrei sottolineare un'ultima cosa prima di lasciare la parola agli altri lo scorso 21 marzo alla Camera abbiamo fatto tenuto una conferenza stampa promossa da CNCA dove si rilanciava la campagna che è stata promossa molti anni fa che si dal titolo educare non punire ecco io penso che sia questa la strada che noi dobbiamo assolutamente percorrere con un'informazione corretta su cosa sono le sostanze quali sono gli effetti che le sostanze possono avere ma e lo dico questo con un occhio anche a quello che ci aspetta oggi pomeriggio tenendo conto delle evidenze scientifiche la chiudo qua il testo fondamentale di Norman Zimberg drugs set and setting è uscito alla fine degli anni settanta è stato tradotto in Italia solo pochi anni fa e questo la dice lunga appunto di come noi affrontiamo il tema ma ci dimostra chiaramente e l'esperienza degli operatori ce lo confermano come gli effetti delle sostanze non siano legati solo e soltanto alla chimica ma a ben altro e cioè all'uso che se ne fa al contesto in cui questo uso viene fatto le esperienze ci dicono che l'utilizzo di cannabis non è come ci vogliono far credere oggi la porta d'accesso irreversibile all'utilizzo di altre sostanze che non è quella porta aperta verso quello che ormai piace a molti ridefinire il tunnel della droga penso che un moderno stato che vuole davvero rispondere ai bisogni e alle aspettative dei propri cittadini di benessere e di salute dovrebbe partire dalle evidenze scientifiche e non dalle ideologie grazie prima di dare la parola a Matteo Lami di CNCA volevo anche ricordare citare alcuni contenuti alcuni contributi che sono contenuti in questo libro bianco e oltre a quelli dei presenti che sono intervenuti nella quarta parte del libro sul fronte ONU c'è un contributo di Marco Perduca Mantovano Costu Vienna e uno di Susanna Ronconi droga e diritti umani il sasso nello stagno ci sono poi oltre ai contenuti sulla lieventità che citava Franco Corleone ce n'è uno sempre sulla lieventità e sulle proposte di modifica di Katia Poneti per quanto riguarda il dibattito politico sto andando a ritroso rispetto all'indice non so perché è mai venuta così un contributo di Stefano Vecchio e di Riccardo De Facci e uno a quattro mani di Maria Stagnitte grazie a Zuffa e poi nella prima parte gli effetti delle leggi antridogra contributi di Maurizio Cianchella di Peppe Bresce e di Leopoldo Grosso e poi le conclusioni affidate a Patrizio Gonnella e l'introduzione è scritta da Stefano Anastasia e Franco Corleone e poi volevo salutare la presenza qui in sala stampa di Angelo Bonelli di Antonella Soldo coordinatrice di Meglio Legale di Alessandra De Santis del PD e della nuova portavoce di Lila aspetta Giuseppina Giupponi grazie Giuseppina e scusa a te Matteo la parola per CNCA Matteo Lami buongiorno come CNCA non possiamo non constatare che gli approcci punitivi e le affermazioni ideologiche di questo governo ci riportano agli anni Ottanta facendo tornare a essere forte la legge 309 del 90 ma sappiamo quanto la tolleranza a zero non abbia portato i risultati non gli ha mai portati i risultati e quanto l'atteggiamento punitivo non abbia evitato consumi abusi dipendenze e abbia riempito le nostre carceri in questi anni come CNCA crediamo fermamente che la strada a percorrere sia quella dell'educare e non punire e è quello che facciamo da 40 anni nei nostri servizi dalla riduzione del danno alla prossimità alle carceri alle comunità ora più che mai non vogliamo che le nostre comunità siano dei surrogati degli istituti di pena o dei piccoli carceri ma crediamo che sia giusto proporre leggi alternative pratiche operative e impegno diretto e attivo per questo non possiamo rimanere indifferenti alle presi di posizione dell'attuale governo anzi ne rimaniamo indignati perché una delle prime mosse attuate è stata quella di approvare decreti come quello dei review party utilizzando lo strumento della ripressione e della punizione penale ecco che ancora una volta non viene analizzato il contesto giovanile ma si ricorre alla punizione e ci nascondiamo dietro la sicurezza pubblica è un dato di fatto che il periodo post covid abbia incrementato appuntamenti di ritrovo di incontri di festa per i giovani e dall'altra parte creato casi di isolamento sociale portando con sé però anche l'aumento dell'uso di alcolici di sostanze psicoattive una nuova riorganizzazione del mercato un rilancio del dark web e in contesti marginali di una nuova diffusione di uso di crack alla luce di questo ci sentiamo forti di stare vicino poi ai giovani valorizzando l'azione educativa e stare vicino anche al disagio per rafforzare e incrementare i progetti di prevenzione e riduzione del danno attualmente ci sono centinaia di organizzazioni impegnate e presenti nei luoghi della movita notturna e nelle reparti nonostante e questo ci tendo a sottolinearlo i media non diano importanza e risonanza a questa parte educativa e è fondamentale per noi che queste chi professionali siano sempre più diffuse formate da educatori psicologi assistenti sociali medici infermieri è questa per noi la strada percorre nonostante le leggi assurde ideologiche i nostri operatori saranno lì e continueranno ad esserci in modo collaterale al decreto dei rave siamo preoccupati per le linee che potrebbe essere presa anche su altri temi legate alla mobilitazione giovanile come le occupazioni scolastiche le manifestazioni sentiamo minata la libertà di espressione dei giovani temendo per la vita democratica ed infine temiamo che questa linea punitiva ma non educativa ricada sull'operato delle nostre comunità trasformandoli in piccoli carceri ma il CNCA e le comunità rifiutano questo mandato contenitivo e di controllo e per noi è fondamentale cambiare il passo ripensare a un sistema diverso a un rapporto diverso tra comunità e carcere e territorio pensare equipi sanitari nei carceri valorizzare le pene alternative basti pensare che su 15.000 tossicodipendenti in carcere solamente 3.000 hanno avuto la possibilità di accedere a pene alternative aumentare spazi di ascolto accelerare le procedure delle certificazioni e di cure territoriali creare dei protocolli di intesa tra magistratura enti penitenziali comuni e enti del terzo settore rivadiamo che l'idea del sottosegretario alla giustizia che cita il modello san patrignano non si confà al nostro operato e non ci rappresenta ecco se questa è la strada noi siamo pronti alla disobbedienza civile per rispondere all'inefficacia di queste tendenze punitive e criminalizzanti ci rifacciamo alla conferenza di Genova del 2021 la quale fa emergere che nonostante la linea punitiva ci sono stati aumenti della circolazione di droga il innalzamento del rischio sanitario l'acuirsi dello stigma per questo riteniamo che sia necessario invece recuperare e rilanciare i principi della sanità territoriale le prestazioni a tutela della salute il coinvolgimento attivo delle persone coinvolte il sostegno all'autoregolazione occorre innovare le normative non tornare indietro nel tempo perché allo stato attuale ci troviamo davanti a generazioni diverse a dipendenze sempre nuove alla compresenza di patologie psichiatriche serve allora adeguare e rafforzare il sistema preventivo terapeutico riabilitativo riparativo favorendo atteggiamenti non punitivi ma proattivi e di sanità pubblica per noi lo riaffermiamo l'unica strada a percorrere è educare e non punire grazie grazie davvero Matteo e ora non so se ci sono domande dai giornalisti presenti o altrimenti anche brevi interventi in chiusura Antonella Angelo se volete e informo anche i presenti che ci hanno fatto sapere Marco Furfaro e Cecilia Delia che sono dispiaciuti di non poter essere qui ma hanno una segreteria del Partito Democratico in corso hanno informato gli organizzatori se non ci sono Antonella direttamente da qui l'onorevole Maggi prima ha citato il fatto che il governo oggi pomeriggio ha organizzato questa conferenza contro la legalizzazione della cannabis e ciò che è ancora più grave è che questo incontro diciamo già di per sé non scientifico e puramente contro la legalizzazione della cannabis avviene a porte chiuse quindi ci è arrivata notizia ora cercheremo di verificare magari anche con il vostro aiuto che sono stati negati gli accrediti addirittura alla stampa e ci chiediamo come mai su un tema sul quale comunque è stato convocato un referendum anche nell'ultimo anno quindi un tema sociale rilevantissimo ci sia questa chiusura ci sia questa volontà di non confronto e di avere semplicemente la conferma delle proprie idee della propria propaganda chiamando a sostegno di queste tesi gli unici due che probabilmente cercando su google cannabis no Stati Uniti gli sono venuti fuori grazie Antonella a San Bassi sì no soltanto per ricordare prima che ce ne andiamo che stasera ci sarà una presentazione anche pubblica della quattordicesima edizione del libro bianco a testaccio presso la città dell'altra economia dalle 20.45 ma anche io ringrazio tutti i presenti Angelo Bonelli il PD nelle varie forme e anche l'intervento del CNCA perché per dire che noi siamo tutti qui siamo con il CNCA nel momento in cui addirittura ha detto che pensa a forme di disobbedienza civile e perché la traversata nel deserto richiederà molta acqua ma anche molte idee fantasiose per ridicolizzare coloro che abbaiano alla luna ma che come conseguenza portano tante persone in carcere il nella introduzione non l'avevo citato però mi viene credo sia importante dire che noi siamo oggi in questa situazione con un convegno che vuole essere riservato ma nei fatti è clandestino perché la corte costituzionale preseduta da Giuliano Amato con la bocciatura dei referendum sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia ha impedito che i cittadini potessero esprimersi probabilmente ci sarebbe stato il quorum per quei referendum il risultato sarebbe stato inequivocabile e probabilmente non avremmo avuto elezioni anticipate e chi ha vinto le elezioni anticipate sarebbe stato sconfitto invece nel confronto su questi temi una diversa stagione politica ci sarebbe stata e quando in politica si fanno errori gli errori sono peggio dei crimini e credo che nella storia nei prossimi anni dirà che si è fatto un errore catastrofico per l'Italia e non solo per il tema su cui c'è stato il divieto di intervenire quindi probabilmente dovremmo ripensare non solo a proposte di legge in Parlamento ma anche a coinvolgere ancora attraverso la prova referendaria sui diritti civili umani e sociali il Paese di l'Italia